Ben ritrovati gentili telespedatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura subito parliamo di cronaca, andiamo subito a sentirci allora il primo servizio. Se non interverremmo quanto prima con progetti strutturali, non sarà la Bolkenstein a portarci via le spiagge, ma le mareggiate. È un campanello d'allarme, l'ennesimo, quello lanciato da Union Mare Veneto attraverso il presidente Alessandro Bertonna, nel sopralluogo lungo la costa con il punto della situazione che conferma sostanzialmente la gravità della situazione. Con l'aggravante, ha sottolineato Bertonna, che abbiamo avuto danni enormi per una semplice mareggiata ben lontana da quanto avvenuto nel novembre dello scorso anno. La situazione, dunque, le zone più colpite sono state quelle nei comuni di Jesolo, Eraclea, Chioggia. A Jesolo, nella zona di Pineta, sono stati erosi 50.000 metri cubi di sabbia. A Eraclea, il Comparo Sal, quello intracomunale Eraclea-Jesolo, di fatto non esiste più. A Sottomarina, colpita in particolare la zona di Isola Verde, dove sono completamente scomparsi almeno 30 metri di arenile. L'erosione delle spiagge a Caorle e a Bibione, alle pari delle alte, dovranno affrontare il pesante smaltimento di materiale legnoso lasciato lungo la Battigia. Da questo punto di vista si apre un altro fronte sul quale la stessa Union Mare si sta battendo da tempo, forte di un recente provvedimento portato avanti dall'Onorevole Giorgia Andreuzza. In sintesi chiediamo, così come ha fatto la parlamentare, che il materiale legnoso portato sulle nostre spiagge dalle mareggiate sia considerato biomassa e non un rifiuto speciale, evidenziato Berton. Se passasse la proposta di legge, questo materiale naturale non sarebbe più considerato un rifiuto speciale da smaltire, ma diventerebbe una risorsa per produrre energia pulita. Diventando biomassa ci sarebbe la possibilità di un riutilizzo con un considerevole risparmio di costi di gestione per i comuni costieri e si avvierebbe un processo virtuoso, poiché si generebbe energia pulita. Purtroppo la posta di legge dell'Onorevole Andreuzza, già approvata dalla Camera, è ferma in Senato. Tornando alla questione mareggiate, Union Mare Veneto chiede interventi urgenti. Non è più possibile procedere con interventi a spot. Vanno avviati piani di intervento strutturali e per farlo bisogna procedere in due modi. Il primo, la Regione individua un capitolo di bilancio agganciato al turismo, dedicato a questo tipo di interventi che oggi manca. Il secondo, una quota dei fondi Next Generation all'interno della Recovery Fund, sia a sua volta destinata per il turismo balneare, nella fattispecie per la salvaguardia della costa. Ribadisco che se non interveniamo quanto prima, saranno le mareggiate a portarci via la spiaggia e non la Bolgestein. La spiaggia è la principale risorsa del comparto turistico della costa Veneta, che rappresenta il 50% del turismo della regione e dà lavoro a migliaia di persone e di conseguenza sostegno a migliaia di famiglie. L'eccezionale ondata di maltempo che sta interessando da alcuni giorni l'Italia continua a flagellare soprattutto Veneto e Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, colpendo in particolare le zone di montagna, dove già si sono verificati smottamenti che hanno provocato ulteriori disagi a una situazione complessivamente molto difficile. La perturbazione nevosa infatti ha causato frane, chiusure di strade, crolli di ponti e altre infrastrutture con un impatto sulla popolazione e sull'economia, ha reso ancora più pesante dalla grave crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo, culminata con la chiusura degli impianti sciistici. Le piogge unite a forti venti hanno creato danni che si presentano alquanto ingenti, anche se al momento soltanto il Veneto li ha in qualche modo calcolati quantificabili intorno ai 500 milioni di euro, che però potrebbero aumentare tenuto conto che l'allerta maltempo non è finita e non ci sono ancora tutte le stime provenienti dai singoli comuni. A questi infatti vanno aggiunti i danni provocati dalle mareggiate che stanno interessando tutto il litorale Veneto e Friulano. Il Presidente del Veneto, Luca Zai, ha già chiesto lo stato di calamità al Governo a fronte di una situazione che richiama, peraltro, quanto già avvenuto due anni fa con la loro tempesta vaia che a fine ottobre interessò soprattutto l'area delle Dolomiti e Prealpi Venete, provocando danni che raggiunsero circa i 3 miliardi di euro, di cui 1.800 milioni solo in Veneto, mentre altri 700 in Friuli-Venezia-Giulia e circa 300 in Trentino-Alto-Adige. Se si considera che anche lo scorso agosto parte del Veneto, in particolare quella del veronese, spiega l'onorevole eurodeputata della Lega Rosanna Conte, è stata interessata da un'altra forte ondata di maltempo con altrettanti consistenti danni, è chiaro che va attuato da parte dell'Italia un piano complessivo di sistemazione che non preveda solo finanziamenti per i lavori di ripristino e sviluppo delle zone alluvionate da questi eventi, ma interventi concreti che riguardino anche l'assetto idrogeologico dei territori per mettere in sicurezza gli abitati, soprattutto nelle aree di montagna. Il Governo, spiega ancora Conte, dovrebbe portanto muoversi celermente per stimare i danni, attivare così il Fondo di Solidarietà Nazionale e, se necessario, chiedere anche l'attivazione del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea. A questo proposito, presentato insieme ad altri colleghi della Lega, un'interrogazione scritta alla Commissione Europea, spiega l'eurodeputata Rosanna Conte, insieme ad altri colleghi abbiamo chiesto di prevedere una procedura rapida per il FSUE e di conoscere quali altre azioni intende perseguire per far fronte a queste calamità naturali sempre più frequenti. Una città sempre più inclusiva grazie all'abbattimento delle barriere architettoniche, è quanto ha spiegato il Sindaco Andrea Cereser in merito ai nuovi interventi sui marciapiedi di centro e periferia, alcuni già realizzati nelle vie a Baron e Venezia, altri programmati per la primavera prossima nelle vie Prampolini, Turati, Montepiana e Di Vittorio, oltre al segnale acustico, per consentire anche i non vedenti di attraversare l'incrocio tra le vie Garibaldi, Gorizia e Pralungo. Uno degli obiettivi della città è essere accessibile, spiega il Sindaco, sia per chi ha problemi di diambulazione in modo permanente, sia per chi si è infortunato, quindi ha difficoltà a muoversi in maniera temporanea, sia per chi presenta qualche problema di spostamento dovuto all'età, sia per chi deve spingere una carrozzina. Si deve pensare tutta la città, comprese le infrastrutture, i marciapiedi talvolta possono essere un ostacolo più che un aiuto. Già completato un intervento sui marciapiedi delle vie Barone-Venezia con la realizzazione del nuovo marciapiede a cura dell'impresa Mattiuzio di San Donà. Con lo stesso intervento, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Lorena Marin, si è provveduto a realizzare dei nuovi parcheggi sempre in via Venezia. Altro intervento riguarda l'installazione di segnalatori sonori per non vedenti nei semafori l'incrocio tra via Garivaldi-Gorizia-Pralungo. Si tratta di un incrocio in centro urbano vicino alla casa di cura Rizzola e una delle sedi del liceo classico montale che in futuro sarà trasferito appunto tutto in via Pralungo. I lavori di manutenzione prevedono l'inserimento di dispositivi acustici e quanto serve per l'abbattimento delle barriere continua Marin. Anche in questo caso il comune è sensibile al tema e ha colto l'occasione della manutenzione per agevolare le persone con mobilità ridotta. I lavori sono stati affidati all'impresa Siedi-Conselve. La spesa complessiva è di 12.000 euro, suddivisa in 6.000 per via Garibaldi, circa 3.000 per via Gorizia e altrettanti in via Pralungo. Nel frattempo l'Aggiunta Cereser ha approvato anche l'abbattimento delle barriere architettoniche dei marciapiedi delle vie Prampolini-Montepiana di Vittorio e Turati. Una parte di quest'ultima era già stata sistemata, ha precisato Marin, per cui si tratta di completare il resto. Come per altre strade i marciapiedi sono rovinati e caratterizzati da pendenze, per cui saranno con tutta probabilità lavori in primavera. Il costo dell'intervento è di 115.000 euro. Il Comune partecipa a un bando che prevede un contributo di circa il 50% da parte della Regione. Nel frattempo è iniziata anche la sistemazione di Via Falcone, una delle strade più abitate nella frazione di Fiorentina. 37 i nuovi laureati del corso di infermieristica, vista l'emergenza Covid-19, sono state discusse a distanza le tesi di laurea dei 37 giovani che hanno portato a termine nell'anno accademico 2019-2020 il percorso formativo proposto dalla Università degli Studi di Padova nella sede del Polo Universitario di Portogruaro. Dall'apertura del corso di studi avvenuto nel 2001, il numero dei laureati portogruaresi ha così raggiunto quota 560, contribuendo a costituire la spina dorsale della sanità del territorio. La commissione esaminatrice, composta da 5 docenti e due rappresentanti dell'Ordine dei Professionisti Infermieristiche, si è riunita in presenza, mentre i laureandi erano collegati a distanza in videoconferenza. I neodottori hanno potuto iscriversi immediatamente all'Ordine e quindi possono essere assunti per svolgere la propria professione fin da subito. Guardiamo a questi giovani colleghi, ha detto la Presidente dell'Ordine dei Professioni Infermieristiche della provincia di Venezia, Marina Botacin, con un misto di orgoglio e preoccupazione, perché il passaggio da studenti a infermiere è già complesso di per sé, ma in questo momento storico lo sarà ancora di più. Confidiamo ora che le organizzazioni sanitarie di cui entreranno a far parte non li espongano ad un peso di responsabilità che non sono in grado di sostenere, puntando tutto sul loro entusiasmo e sul forte senso di attaccamento alla professione che comunque dimostrano. Il corso di Porto Uruero rappresenta, specie in questo particolare difficile momento, per la sanità una straordinaria fonte di risorse umane, non solo per strutture pubbliche, ma anche per le numerose realtà private. L'Ulss 4 ha già assunto a tempo determinato sette infermieri e ha pubblicato un nuovo avviso, studiandone tempistiche favorevoli anche per i neolaureati che nei giorni scorsi hanno discusso la propria tesi. Sostanzialmente tutti i nuovi infermieri, spiegano dall'Ulss, potranno trovare occupazione all'interno della nostra azienda. Al Covid ospita di Jesolo sono stati inviati degli infermieri che lavoravano negli altri ospedali e ciò conferma che in questo momento c'è sette di queste figure professionali. Gli infermieri verranno impiegati nei presidi ospedalieri, nonché in caso di necessità, anche nel territorio. Il corso di laurea in infermieristica, che gode del sostegno concreto della Ulss 4, è uno dei primi che la Università di Padova ha decentrato nel territorio regionale. Fanno parte del percorso di studi anche i tirocini nelle strutture sanitarie. Prima della pandemia i tirocini si svolgevano anche in alcune strutture convenzionate, come le RSA. Ciò sarà di nuovo possibile solo a epidemia conclusa. In occasione della ricorrenza dei vent'anni di attività della Portazione Civile di Musile di Piave, l'amministrazione comunale ha voluto tributare ai volontari un riconoscimento in segno di gratitudine per l'attività svolta dal gruppo sul territorio. Nei giorni scorsi, nella palestra dell'Istituto Toti, si è svolta infatti una breve cerimonia nel corso della quale il sindaco Silvia Susanna ha consegnato al gruppo operativo una piccola targa celebrativa rinnovando l'impegno nell'acquisto di un nuovo mezzo utile per i futuri interventi. Si tratta di un pick-up del costo di 37 mila euro finanziato per gran parte da fondi comunali. L'operato della protezione civile è divenuto nel corso del tempo essenziale, ha spiegato il sindaco Susanna. Basti pensare anche all'ultima ondata di maltempo che ha interessato il nostro territorio. Il gruppo è sempre in prima linea, in tutte le ricorrenze, siano queste di emergenza o di supporto a qualsiasi evento. Anche durante questa pandemia i volontari sono molto attivi nel telefonare ai cittadini e risultati positivi al covid-19, mettendo a disposizione e informandosi sul loro stato di salute. Nel rispetto di questo particolare momento, conclude il sindaco, abbiamo organizzato una cerimonia breve e in sicurezza, rinnovando il grande sforzo che ogni giorno viene messo in campo da tutti gli uomini e le donne impegnate a musire di piave. Prima della consegna delle targhe, il sindaco ha letto anche un messaggio inviato alla protezione civile da parte del presidente del Veneto, Luca Zaia. E all'appuntamento, infine, hanno partecipato anche il vice sindaco, Vitorino Maschietto, e l'assessore Luciano Carpenedo. Una mostra temporanea d'arte nei negozi e nei pubblici esercizi di Porto Santa Margherita per ravvivare il Natale così anomalo. A partire da questo martedì scorso e fino al 6 gennaio, Porto Santa Margherita sarà teatro di un'interessante iniziativa organizzata dai commercianti del posto in collaborazione con l'associazione proprietari Porto Santa Margherita e lo stesso comune di Caorle. Si tratta di una esposizione di opere d'arte visibile dalle vetrine dei negozi di Corso Genova, Corso Pisa, Viale Venezia e altre zone limitrofe. Pur essendo chiuse la maggior parte delle attività, i negozianti hanno voluto organizzare questo evento per regalare un'emozione ai residenti di Porto Santa Margherita e a chi in questo periodo può ancora frequentarla nel rispetto delle restrizioni anticontagio. Le opere esposte sono tutte realizzate da artisti residenti nel comune di Caorle come Giorgia Basso, Fabiana Cristofoli, Paolo Durizzotto, Nicola Gnan, Marina Mian, Alice Padovese e Claudia Zanon. Altre opere realizzate con stili diversi da non perdere anche con le luminarie e le decorazioni natalizie che sempre i commercianti della frazione hanno voluto installare per avvelire le vetrine. Questa iniziativa è una conferma del forte legame che negli ultimi anni si è stretto tra i gestori di attività commerciali di Porto Santa Margherita che ha portato all'organizzazione di diverse manifestazioni. Si tratta di una serie di eventi tutti accumulati dallo scopo di rilanciare la frazione che da tempo sta cercando di rialzare la testa dopo un periodo di difficoltà. Gli scatti dal territorio con Vinicio Scortegagna. I nostri servizi, i nostri live li trovate sulla pagina Facebook di Media24. Ci fermiamo con questa edizione, torneremo con le altre nel corso della giornata. Rimanete con noi, alla prossima!